In tempi di taglia alla formazione è l'inaugurazione di una nuova aula scolastica a diventare notizia. Il taglio del nastro è avvenuto alla primaria Luciano Donatelli di San Vito, dove nei locali dell'ex cucina è stato ricavato uno spazio per l'attività del progetto a scuola senza zaino. 70 metri quadrati quelli interessati dalla ristrutturazione, suddivisi tra più di 50 destinati alla nuova aula didattica e i restanti 16 destinati ad un locale pluriuso. Per l'occasione è stato anche presentato il progetto orto scolastico. L'amministrazione comunale ha offerto ad un istituto un finanziamento per attivare l'orto, spiega l'assessore con delega alle politiche formative giovanili Ilaria Maria Viettina. Il progetto, in realtà presente da anni alla scuola di San Vito, è stato fino ad oggi finanziato completamente da genitori in scuola. L'amministrazione, con la figura dell'assessore, ha voluto essere presente a questa importante ripresa dell'attività per complimentarsi con le famiglie, gli alunni, il personale scolastico e per sostenere il progetto in futuro. A gestire l'orto un docente, il maestro Paolo Petri, che sottolinea il valore dell'iniziativa. Un'occasione importante per avvicinare i bambini alla dimensione della natura, per fare esperienza di attività all'aria aperta, per educarli a stili di vita sostenibili attraverso prodotti a chilometri zero. Questo è un progetto. Certo, certo.